Il ministro dell'Interno Luciano Lamorgese ha espresso la propria vicinanza e la solidarietà al poliziotto rimasto ferito ieri sera durante la fuga di alcuni migranti dal centro di accoglienza di Siculiana, nell'Agrigentino. Grazie a tutte le forze di polizia, ha aggiunto la titolare del Viminale, che con grande dedizione e professionalità stanno svolgendo l'attività di controllo del territorio e di vigilanza nelle strutture di accoglienza dei migranti, anche a tutela detto della salute pubblica.